Musica Benvenuti al consueto appuntamento con il nostro telegiornale apriamo il nostro notiziario con una bella storia da raccontare minuti di paura in un bar e ristorante sulla SS 115 che da Gela Porta a Licata nel quale durante una cena un giovane ha rischiato di morire soffocato a causa di un boccone di carne andato di traverso fortunatamente a salvarlo è stata la barista del locale che dopo essersi accorta di quanto stesse accadendo gli ha prontamente praticato la manovra di Heimlich praticamente salvandogli la vita e questo è il racconto di quanto è successo, vediamo Attimi di paura in un bar e ristorante sulla SS 115 indici che da Gela Porta a Licata nel quale durante una cena Giuseppe che si trovava lì in compagnia della fidanzata che sposerà il prossimo sabato ha rischiato di morire soffocato dopo che un boccone gli era rimasto incastrato in gola a salvarlo però ci ha pensato l'intervento tempestivo di Priscilla barista con alle spalle una solida formazione nel campo sanitario che si accorta del pericolo e gli ha subito praticato la manovra di Heimlich tutto si è svolto nell'arco di pochissimi minuti la coppia era seduta al tavolo quando il giovane ha iniziato a strozzarsi istintivamente si è alzato dalla sedia e ha provato a fare qualche passo ma non è riuscito a liberare le sue vie respiratorie neanche con l'ausilio di un cameriere che aveva tentato ripetutamente di colpirlo sulla schiena Attimi di paura che Giuseppe racconta così in pochi secondi stava per finire tutto perché ero totalmente soffocato cercavo di darmi aiuto ma non riuscivo a liberarmi non riuscivo a mandarlo giù e manco a farlo risalire poi ho cercato aiuto dentro i ragazzi, lo staff del Bar Pisano mi hanno subito assistito e in particolare devo un grazie a Priscilla che ha saputo fare la manovra e dopo qualche minuto mi ha liberato Fondamentale è l'intervento tempestivo di Priscilla al lavoro nel locale da appena una settimana che si è accorta del pericolo e gli ha subito praticato la manovra di disostruzione è una manovra che comunque dovremmo saper fare tutti o comunque non solo questa ma anche altre manovre di salvataggio dopo un minuto e mezzo circa che ha buttato via il boccone ci siamo liberati completamente sia lui che io ed è stato veramente grazie a Dio perché è stato un miracolo del Signore perché mancava poco e sarebbe davvero finito tutto e Priscilla lancia un appello per invitare tutti a imparare le manovre di primo soccorso per queste cose è sempre la prima volta perché non sai mai il soggetto che è davanti puoi avere un anziano, un bambino o un ragazzo come lui quindi è come se fosse sempre la prima volta e adesso l'emozione è tanta perché ci ripensi e ci ripensi e dici è stato davvero un miracolo un miracolo perché mi auguro che come so farla io questa manovra perché comunque fa parte anche del mio lavoro tanti ragazzi ma anche grandi possano imparare possano andare avanti su questa linea in senso che devono sapere cosa hanno in quel momento davanti non appena Giuseppe ha ripreso il colorito i due si sono stretti in un lungo abbraccio se sabato sarà sull'altare insieme alla compagna per pronunciare il loro sì e soprattutto merito di Priscilla un grazie a caratteri cubitali e lo farò a vita perché veramente posso dire che mi ha salvato la vita La cronaca sono sei gelesi coinvolti nell'inchiesta condotta dalla DDA di Palermo ad ottobre tutti gli imputati si presenteranno davanti al GUP venne individuata una fitta rete di spaccio di droga L'attività di indagine coordinata dalla DDA di Palermo fu vasta e tocco più territori il fortino della droga e non solo venne individuato nella zona ribattezzata bronza indicata l'affare degli stupefacenti ruotava secondo gli inquirenti anche intorno all'asse dei gelesi ad ottobre dopo la chiusura delle indagini coinvolti nell'inchiesta Ibris si presenteranno davanti alla GUP del Tribunale di Palermo è stata fissata l'udienza preliminare e gli arresti risalgono ad inizio anno Furono una ventina le misure di custodia cautelare eseguite dagli agenti della mobile di Agrigento comprese quelle per i gelesi Giuseppe Domicoli 33enne con diversi precedenti sempre per droga Giuseppe Sanfilippo a sua volta già coinvolto in inchieste antidroga Paolo Cavallo di 53 anni Giuseppe Pasqualino di 31 anni Orazio Luciano Curva e Nunzio Ratto di 46 anni tra i primi a finire sotto osservazione Licatese Michele Cavaleri tre anni fa nell'area di servizio GB Oil venne raggiunto da colpi di pistola e rimase ferito per quei fatti è stato condannato anche in appello insieme a chi sparò e ad un altro Licatese adesso tutta l'attività di indagine che è stata conclusa attraverso gli sviluppi svolti proprio dai PM della DDA di Palermo confluirà nella determinazione del GUP del Tribunale Palermitano appunto sarà il giudice a decidere anche sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dai PM palermitani Ancora alla cronaca una vettura una Fiat 500 è finita a ridosso di un tratto di spiaggia sul lungomare dopo essere uscita in strada pare che a bordo ci fossero una ragazza e un ragazzo la giovane è stata aiutata a uscire dai vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente dopo l'incidente sul posto sono giunti anche i sanitari sembra che la vettura abbia divelto il parapetto finendo lungo l'arenile dopo essere scesa dalla discesa Borsellino Torniamo a parlare del capannone pesca gel perché è stato completato il lavoro di smantellamento delle parti della struttura che impedivano di raggiungere le celle frigorifere il ferro potrà essere smaltito regolarmente perché le analisi hanno escluso la presenza di sostanze pericolose la caratterizzazione è stata effettuata anche sul materiale delle celle che potrebbe essere la fonte vera del tanfo di queste settimane si attende adesso l'esito e sulla base di questo si procederà alla futura rimanata vediamo mentre in città continuano a moltiplicarsi le segnalazioni di cattivo odore che puntualmente da due settimane ormai ammorva soprattutto i quartieri più est del centro abitato spingendosi a seconda del vento anche fino alle zone più a ovest nella seconda strada della zona industriale è stato completato il lavoro di smantellamento delle parti del capannone della pesca gel che impedivano di raggiungere le celle frigorifere più della metà della struttura collassata su se stessa dopo il rogo è stata abbattuta e messa in sicurezza il ferro potrà essere smaltito regolarmente perché le analisi hanno escluso la presenza di sostanze pericolose si aspettano per oggi invece i risultati della caratterizzazione che è stata effettuata sul materiale organico in putrefazione contenuto all'interno delle celle che potrebbe essere la fonte vera del tanfo di queste settimane sulla base di quanto emergerà dalle analisi si procederà alla rimozione probabilmente con la collocazione in un container attenuta stagna per poi destinare il materiale organico a un centro specializzato nel pomeriggio di ieri sul posto intanto sono tornati i tecnici dell'ARPA e i militari del NOE che stanno curando l'indagine dopo che la procura ha aperto un fascicolo conoscitivo su quanto accaduto fari puntati anche sul fiume Gela dove tra ieri e l'altro ieri alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di nuove chiazze nere maleodoranti che sono poi finite in mare al momento nella capitaneria di Porto nei carabinieri del nucleo ecologico si sono pronunciati su un'eventuale correlazione tra quanto accaduto al capannone e il possibile inquinamento delle acque del fiume ma le indagini proseguono i lavori alla pesca Gela intanto sono in corso e vanno avanti anche per cercare di superare i gravi disagi che in questo periodo hanno toccato gran parte della città con una puzza nell'aria che si percepisce principalmente nelle ore notturne Si è tenuto un confronto tra l'assessore Salvatore Incardona e Grillini Nuccio Di Paolo e Virginia Farruggia gli approfondimenti hanno riguardato l'impiantistica sportiva comunale l'assessore conferma che per la gestione si passerà da un bando vediamo i particolari in questo servizio Un monitoraggio complessivo su tutte le strutture sportive comunali con la prospettiva di poter ricevere fondi regionali i prossimi mesi all'Arsi infatti saranno segnati dalla lunga danza della legge finanziaria ci saranno iniziative volta di individuare spiragli anche per le strutture locali C'è stato un incontro tra il parlamentare Ars Nuccio Di Paolo e l'assessore allo sport Salvatore Incardona al tavolo ha preso parte il consigliere pentastellato Virginia Farruggia C'è appunto la volontà di avere un quadro preciso in questo modo anche attraverso la finanziaria regionale potrebbero arrivare stanziamenti per il miglioramento delle strutture per renderle ancora più efficienti Un incontro bipartisan, quello tra l'assessore e gli esponenti del Movimento 5 Stelle certamente al di sopra di ogni appartenenza dato che i grillini sono all'opposizione della giunta greco non è la prima volta però che per obiettivi legati alla città prevalgono delle convergenze Rispetto alla gestione delle strutture sportive invece Incardona tiene una direttrice piuttosto chiara Secondo l'assessore infatti non è scontato che la proprietà di una società sportiva debba corrispondere a quella di una struttura pubblica Si procederà con un bando e gli uffici stanno lavorando proprio su questo punto Secondo Incardona ci sarà massima trasparenza nel rispetto delle norme in materia Non si possono infatti rischiare situazioni di illegittimità Sulle strutture sportive non da ora sono tante le attenzioni e spesso si è discusso di una gestione diretta dei privati Prima di tutto però si dovrà passare da un abbando pubblico come ha confermato proprio l'esponente della giunta greco E per la famiglia è stata una perdita terribile e incolmabile L'incidente stradale della notte di Ferragosto ha messo fine prematuramente alla vita dell'operaio 38enne Luigi Russello Un decesso che ha colpito tanti soprattutto per le modalità L'operaio in sella al suo scooter stava facendo ritorno ai suoi cari dopo il turno di lavoro L'impatto con un Audi in via Licata è stato fatale Era un dipendente della Tecra e Ottobre come altri operai al servizio rifiuti sarebbe transitato in impianti SRR l'in-house che avrà la gestione delle attività Proprio i vertici della società per andare incontro alle tante esigenze di una famiglia rimasta purtroppo senza un apporto essenziale hanno concluso adesso l'iter di assunzione per adesso interinale della moglie di Russello Una scelta che era già stata comunicata dopo la notizia il drammatico schianto i vertici di impianti hanno subito accelerato nelle procedure di assunzione rivolgendosi proprio alla moglie di Russello che in questo modo potrà avere spazio all'interno dell'azienda e una fonte di sostanziamento per il piccolo figlio Parliamo della crisi finanziaria in comune la Giunta ha rilasciato il provvedimento che fisse i parametri precisi per la copertura di tutti i debiti dell'ente municipale un passo che rientra nel percorso verso il piano di riequilibrio saranno pagati con un ammontare decurtato e dilazionati nel tempo Vediamo Era un adempimento improrogabile nella strada che porterà al piano di riequilibrio l'amministrazione comunale ieri nuovamente impegnata in verifiche finanziarie e nel confronto con i revisori e con gli uffici tecnici ha approvato la delibera che definisce i criteri per la copertura di tutti i debiti dell'ente i creditori ad iniziare da quelli che attendono da anni potranno ottenere quanto previsto ma sulla base di una proposta degli uffici comunali che potrà definirsi con una riduzione a partire dalla misura minima del 25% e con una dilazione su più rate sono questi i presupposti previsti nella procedura per il piano di riequilibrio successivamente destinato alla verifica della Corte dei Conti il sindaco Lucio Greco e gli assessori hanno approvato l'intera delibera secondo il primo cittadino in questo modo tutti i creditori dell'ente avranno la possibilità di avere piena certezza di ottenere le somme attese da anni in gran parte si tratta di debiti maturati in passato ma che devono ancora essere coperti secondo Greco con questo provvedimento sulla base di una riduzione dell'entità complessiva e di una dilazione su più rate ci sarà una vera certezza del credito in sostanza nessuno perderà quello che gli spetta così ribadisce il primo cittadino il provvedimento approvato dalla Giunta stabilisce criteri già fissati l'entità dei debiti da coprire viene suddivisa su diversi scaglioni e in base proprio all'importo sono definite anche delle rate precise che verranno dilazionate nel tempo si potrà arrivare fino ad un arco temporale compreso tra i 15 e i 20 anni nel caso di maxi crediti che vanno da 10 milioni e fino a 20 milioni una classificazione che arriverà a toccare anche i debiti che nel tempo sono diventati fardelli notevoli per gli equilibri del municipio ci sarà inoltre un monitoraggio costante per accertare che tutte le somme vengano trasferite ai creditori sulla base delle tempistiche previste anche questo provvedimento approvato dalla Giunta con i relativi scaglioni di spesa confuirà nel piano di riequilibrio da presentare alla Corte dei Conti per evitare il dissesto e adesso lo sport prima di chiudere alla vigilia della prima di Coppa Italia eccellenza il Gela annuncia tramite le proprie pagine social il nuovo difensore Pedro Sejudo si tratta del terzo colpo annunciato negli ultimi giorni dopo Amaia e Alves vediamo alla vigilia del primo impegno ufficiale della stagione 2023-2024 il Gela Calcio mette a segno un altro colpo arriva alla Corte Bianca Azzurra il gioccioso difensore spagnolo Pedro Antonio Sejudo Martinez classe 1999 si allena con la squadra di Mr. Fauchana già da qualche giorno e adesso ha firmato il contratto che lo legherà il Gela per questa stagione l'anno scorso ha militato con il Rotonda squadra neopromossa in serie D si tratta del terzo colpo annunciato negli ultimi due giorni dopo la mezzala Gabriel Alves e il centravanti Federica Maia il primo, brasiliano si allena con la squadra Bianca Azzurra da una settimana ed ha partecipato anche al testo congiunto con la Pro Ragusa nel secondo tempo del match chiuso 3-1 per il Gela il primo, brasiliano si allena con la squadra Bianca Azzurra da una settimana ed ha partecipato anche al testo congiunto con la Pro Ragusa nel secondo tempo del match chiuso 3-1 per il Gela è una classica mezzala che ovviamente fa della tecnica la sua dote migliore pur avendo una buona fisicità lo scorso anno era il Bisceglie in Puglia per quanto riguarda Maia si tratta di un possente giocatore sudamericano classe 1990 già da diverse settimane si era unito alla squadra gelese guidata da mister Mirko Fauciana e in queste ore ha formalizzato il suo inserimento in rosa l'anno scorso sempre nel torneo di eccellenza con la Maia dell'Enna il neo arriva in casa Gela ha messo a segno 7 gol mostrando tutto il proprio valore quest'anno la punta centrale argentina ha deciso di sposare appieno il progetto sportivo targato Gela Calcio mettendosi subito a disposizione del tecnico gelese e dei suoi nuovi compagni di squadra so perfettamente che è una grandissima piazza con una città con una cultura calcistica grande quindi quando ho avuto questa possibilità quando mi hanno chiamato per venire qua ha subito detto di sì Com'è nata la trattativa? È nata tramite il direttore sportivo e il mio procuratore ma ti ripeto è stata una cosa fatta subito perché lo so perfettamente dove sono arrivato sicuramente cercherò di mettere la mia esperienza in campo da dove tocca aiutare sempre soprattutto ai giovani e raggiungere gli obiettivi è la cosa principale C'è tanta concorrenza nel tuo ruolo? Sì, sì, sì lo so ma ti ripeto ognuno fa il suo lavoro poi sarà il mister a decire chi entra in campo e chi non entra sicuramente dovrà fare anche il massimo domani le sordi a Mazzarrona in Coppa alle 16 Sarà una gara combattuta noi ce la metteremo ce la metteremo tutta per portare a casa il risultato perché siamo il giro vogliamo partire subito forte quest'anno abbiamo obiettivi importanti sicuramente la fatica si farà sentire perché fa caldo perché siamo in periodo ancora di preparazione ma daremo il massimo per passare questo turno Ci saranno delle novità rispetto alla formazione della scorsa settimana? No, diciamo che i ragazzi metteremo in campo chi è nelle migliori condizioni atletiche appunto verranno fatte delle valutazioni all'ultima ora quindi vediamo un po' di schierare i migliori Bene, questo era il nostro ultimo servizio siamo in chiusura naturalmente se volete approfondire tutte le nostre notizie le trovate sul sito www.quotidianoigela.it se invece volete rivedere o condividere tutti i nostri servizi li trovate sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e YouTube per il momento è tutto vi lascio come di consueto alle previsioni meteo grazie per averci seguito arrivederci Grazie a tutti 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 Grazie a tutti